Questo è il video per gli italiani e anche per il mondiale in Qatar, che ora è tutto dalla tabellone. Gruppo A, Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud, Senegal contro l'Olanda, Inghilterra contro l'Iran, Qatar, Ecuador, Stati Uniti, Galles, Argentina, Arabia Saudita, Danimarca, Tunisia, Messico, Polonia, Francia, Australia, Marocco e Croazia, Germania, Giappone, Spagna, Costa Rica, Belgio, Canada, Svizzera, Cameroon, Uruguay, Corea del Sud, Portogallo, Ghana, Brasile contro il Serbio, Galles contro l'Iran, Qatar contro il Senegal, Olanda contro l'Equador, Inghilterra contro gli Stati Uniti, Tunisia, Australia, Polonia, Arabia Saudita, Francia, Danimarca, Argentina, Messico, Giappone, Costa Rica, Belgio, Marocco, Croazia, Canada, Spagna, Germania, Cameroon, Serbia, Corea del Sud, Ghana, Brasile, Svizzera, Portogallo, Uruguay, Ecuador contro il Senegal, Olanda e Qatar, Iran, Stati Uniti, Galles, Inghilterra, Tunisia, Francia, Australia, Danimarca, Polonia, Argentina, Arabia Saudita, Messico, Croazia, Belgio, Canada, Marocco, Giappone, Spagna, Costa Rica, Germania, Cosrea del Sud contro Portogallo, Ghana, Uruguay, Serbia, Svizzera, Cameroon, Brasile. Questa è la tabellone del mondiale in Qatar 2022, è tutto. Vabbè, ora è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Vabbè, ora è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Grazie a tutti